Musica Consorzio sociale piano di zona, vittorio esposito contro i sindaci, non pagano le quote, a rischio i servizi nei comuni. Capaccio Pestum, scarichi illegali azienda Barlotti, il TAR di Salerno dispone la perizia del genio civile. Casalbuono, fagioli di Casalbuono e dintorni, stamane show cooking con lo chef Franco Marino. Teggiano, alviala due giorni per i bambini con la festa dell'infanzia, ospiti dall'Argentina e tanti libri a bordo del Biblio Motocarro. Calcio locale, valdianese e non, le principali sfide in programma nei campionati dilettanti. Buongiorno e bentrovati con il nostro telegiornale. Dopo quanto sta accadendo al centro sportivo meridionale con la messa in liquidazione dell'ente consortile, il sindaco di Sanza, vittorio esposito, non perde tempo e attacca i sindaci del territorio, evidenziando come il rischio default può interessare anche il neocostituito consorzio sociale piano di zona. I comuni non pagano le quote consortili, denuncia esposito, e parla anche di una possibile interruzione dei servizi sociali dei comuni debitori. Ascoltiamolo. Sono un po' amareggiato per tutta la vicenda che è partita dal centro sportivo meridionale e sta avvenendo un epilogo, come dire, drammatico. Io avevo ammonito i colleghi che anche il nuovo consorzio dei servizi sociali poteva essere in qualche cosa di simile. Quando noi qualche anno fa abbiamo impedito che praticamente i comuni che non erano in regola con i versamenti potessero votare nell'assemblea consortile del centro sportivo meridionale, all'epoca a lei si ricorderà bene, i cittadini si ricorderanno bene, fumo, come dire, attaccati pesantemente dai sindaci perché ritenevano che loro dovevano partecipare liberamente nonostante non fosse in regola con i pagamenti. Ad oggi nel piano sociale di zona sta avvenendo la stessa cosa e qualcuno di noi, io in particolare, avevo ammonito i sindaci dicendo che non volevo che mi facessero la stessa pina del centro sportivo meridionale. Ahimè, questo non è scongiurato perché oggi già siamo a una buona quota di debili perché i comuni non onorano le loro spettanze. Però qua è un problema ancora più complesso perché si parla di servizi sociali, quindi di persone che hanno bisogno di assistenza e i comuni devono par fronte ai pagamenti, anche perché usufruiscono dei servizi. E io ho proposto a quei comuni che non rispettano i pagamenti nei termini e nei termini, praticamente non saranno erogati i servizi. Mi auguro che il CdA, presieduto dal sindaco di Sala Consiglina, pigliano atto di questa situazione perché da più parte si sente un problema serio che le associazioni, le cooperative che hanno vinto le gare negli anni scorsi e anche quest'anno, nonostante si è dovuto fare la gara, non avanzano parecchi soldini, si parla di quasi 2 milioni di Euro di spettanze nei confronti di queste associazioni e cooperative. Allora io dico, bisogna fare chiarezza su questo punto, perché molte volte si parla del fatto di piano, facendo passarelle e quant'altro, ma non si dice la realtà, perché quelle poche cose che ci sono restate di tipo contortile poi vengono abbandonate perché c'è l'incuria dei non pagamenti, ma non si capisce perché. Allora io mi rivolgo ai cittadini nel vanto di Dias, perché io credo che i cittadini paghiano le tasche dei propri comuni e vogliono i servizi. Quindi partirei da questo, senza additare nessuno per la verità, però mi tengo che bisogna farsi un esame di coscienza, perché se si vuole che il vallo si parla di arinterno, si parla di altre cose e poi sulle cose estenziali non si trova accordo perché qualcuno pensa di essere furbo, e questa furbizia non arriva oltre la siente, perché praticamente alla fine vengono scoperti questi che si nascondono e non credo che ci facciano bella figura. I nomi ormai sono a conoscenza di tutti, perché in questi giorni non ho visto nemmeno repliche ai miei comunicati, dove voi giornalisti mi avete quasi tutti chiamato sulla questione centrosportivo in particolare, ma già in passato era stato interrogato e avevo interrogato sul problema piano di piano di zona sociale e ad oggi nessuno, a nessuno, ritengo che abbia posto il problema in questi termini. Cambiamo argomento. Scarichi illegali dell'azienda agricola Barlotti di Capaccio Pestum, il Tardisalerno, ha disposto la perizia del cenio civile per valutare se siano ancora presenti i rischi di inquinamento ambientale e pericolo per l'igiene pubblica. Sversamenti illegali a Ponte di Ferro in piena estate. Servirà una perizia del genio civile di Salerno per valutare se l'azienda Il Tempio di Capaccio Pestum dovrà o meno temperare all'ordinanza sindacale inerente l'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari emessa sulla scorta del verbale di sequestro redatto dalla Polizia Municipale. A San Cirlo, i giudici della prima sezione del Tardisalerno chiamati ad esprimersi sul ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza a firma del sindaco Franco Alfieri presentata dal titolare dell'azienda agricola Gianluigi Barlotti. Procedimento nel quale il comune di Capaccio Pestum si è costituito in giudizio. Dopo aver accolto e disposto la sospensione dell'ordinanza sindacale, i magistrati del Tarra hanno ritenuto che la decisione del gravame non possa prescindere dal compiuto accertamento dello stato dei luoghi imponendo una verifica da affidarsi all'ufficio del Genio Civile di Salerno i cui esperti saranno chiamati ad accertare lo stato di pericolosità ambientale dell'impianto di scarico oggetto del sequestro. La perizia dovrà avvenire entro il 1 marzo del 2020 facendo slittare la nuova udienza al 4 aprile dell'anno prossimo. Ed ora la cronaca viene investita da un furgone muore sul colpo. Tragedia per una donna 42enne originaria di Giungano, comunità sotto shock. Vediamo i dettagli nel prossimo servizio. Investita e uccisa sulle strisce pedonali da un camion a Roma è morta così Alessia Marino, 42enne originaria di Giungano, residente in zona tuscolano nella capitale dove lavorava in uno studio legale. La tragedia è avvenuta ai Colli Albani dove tutte le mattine la donna andava a trovare la madre prima di recarsi al lavoro. E proprio a pochi passi dall'abitazione della mamma mentre attraversava la strada è stata travolta in pieno dall'Iveco Stravis guidato da un 43enne che viaggiava sulla via Appia Nuova. Secondo i primi accertamenti con il semaforo veicolare verde l'autista ha svoltato a destra ma si è trovato davanti Alessia Marino che attraversava a sua volta sulle strisce pedonali anche lei con segnale semaforico pedonale verde. Nel violento impatto la donna purtroppo è deceduta sul colpo rimanendo incastrata sotto l'autocarro e per liberarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'autista sotto shock si è immediatamente fermato a verificare l'accaduto allertando i soccorsi. Sul posto per i dirievi del caso sono giunti gli agenti del settimo gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno identificato il 43enne sottoponendolo ai test alcolemici e tossicologici di rito. Lutto invece nella comunità giunganese per la scomparsa di Alessia Marino con numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia postati sui social. È morto questa notte Franco Ortolani senatore del Movimento 5 Stelle e professore ordinario di geologia all'Università Federico II di Napoli aveva 76 anni ed era malato da tempo qualche mese fa aveva scritto sui social due tumori ma non ho intenzione di mollare simbolo della lotta alla terra dei fuochi aveva attribuito ai velini della Campania la causa della sua malattia diverse le battaglie ambientali portate avanti da Ortolani anche a tutela del Vallo di Diano contro le estrazioni petrolifere solo lo scorso anno infatti si recava Montesano Scalo per la vicenda legata alla stazione elettrica terna dimostrando grande attenzione d'attaccamento al nostro territorio le segui del professor Ortolani saranno celebrate nel pomeriggio di oggi alle ore 16 presso la Basilica dell'incoronata madre del Buon Consiglio a Capodimonte di Napoli andiamo avanti la violenza contro le donne e minori e questo è il tema del convegno che si terrà a Sanza giovedì 28 novembre vediamo i dettagli la violenza contro le donne e minori e questo è il tema dell'interessante convegno che si terrà a Sanza giovedì 28 novembre a partire dalle ore 15 e 30 presso la sala conferenze del CEA all'antico monastero di Salemme l'evento è stato promosso da Network Project e vedrà gli interventi di illustri relatori la dottoressa Rossella Maria Colella sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lago Negro il dottor Vincenzo Saladino magistrato presso il Tribunale di Napoli Nord l'avvocato Michela Patti presidente Network Project il dottor Ferdinando Pellegrino psichiatra la dottoressa Maria Filomena Desina psicologa l'avvocato Annarita Crecca del Foro di Lago Negro il capitano dei carabinieri di Sapri Gaetano Calcagnele il capitano dei carabinieri di Sala Consilina Davide Acquaviva e saluti istituzionali saranno portati dal sindaco di Sanza Vittorio Esposito si parlerà di un fenomeno impressionante nei numeri in Italia ogni settimana muoiono in media tre donne per femminicidio ed è purtroppo in aumento anche la percentuale dei figli che assistono ad episodi di violenza sulla propria madre nonostante una leggera riduzione del ricorso alla violenza nell'ultimo decennio restano stabili le quote di donne vittime di violenza estrema quali stupri e tentati stupri e delle forme più efferate di violenza come l'uso o la minaccia di usare una pistola o un coltello inoltre più dell'80% degli stupri sulle donne italiane è stato commesso da un italiano gli stupratori stranieri sono il 15,1% secondo i dati del Ministero dell'Interno sono state 149 le donne vittime di omicidi volontari nel 2016 in Italia tuttavia a livello europeo non esiste una definizione univoca di femminicidio l'unica cosa certa è che quasi 3 su 4 di questi delitti sono stati commessi nell'ambito familiare 59 donne sono state uccise dal partner 17 da un ex partner e altre 33 da un parente dati impressionanti che offriranno molteplici spunti di riflessione nel convegno dibattito in programma a Sanza Cambiamo argomento questa mattina a Casalbuono presso il Castello Baronale si è tenuto il concorso gastronomico fagioli di Casalbuono e dintorni caratterizzato dallo show cooking dello chef Franco Marino tre protagonisti della trasmissione TV la prova del cuoco abbiamo raccolto le parole dei protagonisti ascoltiamoli è una giornata importantissima oggi ma è stata importante anche ieri c'è stato un convegno molto molto bello per quanto riguarda il nostro prodotto i nostri prodotti soprattutto i fagioli e i peperoni oggi è una giornata fantastica in questa location splendida che è il Castello Baronale di Casalbuono quindi ci sarà una gara tra provetti cuochi cioè sono ragazzi degli istituti alberghieri di Sapri, di Maratea, di Salerno e di Sant'Arsenio quindi è un evento molto importante ed è questi tre giorni che è molto importante dove la Proloco ha sposato questo progetto e domani si concluderà con il nostro pranzo della domenica il pranzo conviviale che faremo nel centro polisportivo Giovanni Paolo II dove la Proloco cucinerà la famosa pasta e fagioli di Casalbuono ed è gratuito quindi è un pranzo della domenica gratuito e abbiamo avuto già il sold out quindi siamo veramente soddisfatti di questo primo anno di questa manifestazione per me è un piacere stare qui perché notavo stamattina un paese veramente curato bello, l'aria buona quindi è un onore per me stare qui e fare un piatto con i vostri prodotti d'eccellenza e i ragazzi ancora non hai avuto modo di conoscere? no, li ho intravisti però vedo in ognuno di loro quella voglia di fare bene quindi un'ottima sensazione mi hanno dato qual è stato il tuo ultimo impegno televisivo? sto facendo un programma sul Rai 1 quindi sono spesso lì ringrazio anche loro per questa opportunità che mi stanno dando quindi la prova del cuoco, Elisie Soardi e tutto lo staff che mi fa sentire a casa ogni volta oggi c'è anche una presentatrice d'eccezione l'ho conosciuta prima rinnovo i miei complimenti alla struttura alle persone che ho conosciuto quindi è veramente un onore per me stiamo facendo questi due o tre giorni di eventi che sono molto importanti perché noi riteniamo che il fagiolo può essere un elemento importante per uno sviluppo di Casa Albuono il fagiolo con altri prodotti tipici i casalbonesi sono prodotti di eccellenza come i peperoni cruschi i peperoni in polvere c'è tutto prodotti che sono molto buoni e che secondo me sono molto apprezzati anche fuori di Casa Albuono l'importante è farli conoscere questa iniziativa mira a questo a far conoscere fuori da Casa Albuono questi importanti prodotti sui quali puntiamo molto anche per uno sviluppo economico e anche di tipo demografico perché se riusciamo a mantenere i giovani a Casa Albuono con queste nuove attività forse riusciamo a dare vitalità veramente al paese e ieri sera presso la libreria Mondadori di Sala Consilina si è tenuta la presentazione del libro di Giorgio Franchetti dal titolo A tavola con gli antichi romani un volume per conoscere tutte le abitudini alimentari dei secoli passati interessante e particolarmente eseguito l'incontro che si è svolto ieri sera presso il Mondadori Bookstore di Sala Consilina per la presentazione del libro A tavola con gli antichi romani dove i visitatori hanno potuto respirare gli odori che si respiravano durante le ore dei pasti nell'antica Roma e gustare quelle pietanze che apparivano tipicamente sulle tavole dei romani antichi accolti da Antonio Lullo presso lo store della Mondadori di Sala Consilina è arrivato Giorgio Franchetti autore del libro in presentazione e l'archeocuoca Cristina Conte che ha coadiuvato l'autore nel lavoro di ricerca e di recupero di alcune pietanze ed hanno illustrato seppur in maniera sommaria alcuni dettagli che sono poi meglio illustrati nel libro di Franchetti dettagli che riguardano non solo la preparazione delle pietanze e gli ingredienti utilizzati ma anche la vita stessa degli antichi romani parlando delle loro abitudini alimentari del modo in cui erano soliti vivere i momenti dei pasti dettagli ben illustrati nel libro a tavola con gli antichi romani e che sono frutto di attente e meticolose ricerche studi minuziosi necessari anche per ricreare le antiche ricette che sono contenute nel libro e che possono essere riprodotte una serata di grande interesse come è stato sottolineato dal sindaco di Sala Consina Francesco Cavallone che ha voluto essere presente all'evento culturale promosso dal Mondadori Bookstore un forte interesse che è stato raccolto anche dall'assessore della cultura Francesco Spinelli che da giovane ha sottolineato come conoscere i dettagli della vita quotidiana dei secoli passati può rivelarsi un importante contributo anche per il futuro conoscere l'alimentazione del passato può infatti contribuire a migliorare l'alimentazione dei giorni nostri ad arricchire ulteriormente la serata e a rendere ancora più efficace il passaggio nei sapori del passato un piccolo buffet realizzato dall'archeocuoca Cristina Conte che ha proposto al pubblico un assaggio di alcuni piatti che venivano preparati nell'antica Roma tra cui spiccava in particolare i vari tipi di pane che è stato possibile assaggiare ed ora qualche minuto di pubblicità torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie a tra poco ben trovati con la seconda parte del nostro telegiornale pasticcerie di tutta Italia valutate da Gambero Russo il maestro Giuseppe Manile la Maison Manilia sul podio tra le 23 migliori pasticcerie di tutta Italia ancora premi per il maestro pasticcere Giuseppe Manilia che si conferma tra i più grandi maestri pasticceri italiani nei giorni scorsi è stata pubblicata l'edizione 2020 della Guida del Gambero Rosso in cui sono riportati i migliori pasticceri e le migliori pasticcerie di tutta Italia scelti dopo attenta analisi valutativa l'assegnazione dei premi richiede un lungo e meticoloso lavoro da parte degli ispettori che nel corso di tutto l'anno sono stati in visita nelle migliori pasticcerie italiane per valutare da vicino ambiente esposizione dei prodotti assortimento prezzi efficienza del personale e naturalmente qualità e bontà di dolce e dessert ancora una volta il maestro pasticcere di Montesano sulla Marcellana porta in alto il Vallo di Diano rientrando tra i primi tre dei 23 premiati per l'edizione 2020 della Guida di Pasticceri e Pasticcerie d'Italia con 93 punti e il premio delle tre torte un dolce raffinato nella presentazione e nel gusto realizzato dal maestro Manilia gli ha consentito di vedere nuovamente la sua arte ricevele il meritato riconoscimento lo scorso 18 novembre durante la presentazione della Guida a Roma confermando come l'impegno la passione e l'attenzione nella cura dei dettagli oltre che nella scelta degli ingredienti sono garanzia di successo e riconosciuti anche a livello nazionale ed internazionale un premio che può essere vanto per l'intero territorio il maestro Manilia infatti nella preparazione delle sue specialità dolciare pone massima attenzione alla scelta degli ingredienti cercando sempre di mettere in risalto i prodotti tipici del territorio valdianese e cilentano la maison Manilia di Montesano Scalo quindi anche per l'anno 2020 è sul podio delle migliori pasticcerie italiane la provincia di Salerno comunque ben figura nella guida tre premiati inseriti tra i migliori 23 di tutta Italia anche la pasticceria agricola cilentana del maestro pasticcere di Piaggini Pietro Magellaro e la costa da Marfia Maiori di Salderiso ma i premi e i riconoscimenti per il maestro Giuseppe Manilia non si esauriscono qui nei giorni scorsi infatti è stato anche premiato con la medaglia d'argento all'International Chocolate Awards 2019 con il suo cioccolatino Peru 72,5% andiamo avanti da ieri sera teggiano in festa per i bambini in occasione delle celebrazioni per la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da ieri sera e fino a domani il dottor Luigi D'Albano e tanti volontari in campo per la tredicesima edizione della festa dell'infanzia con lo spettacolo Dolci Libri ha preso il via ieri sera la tredicesima edizione della festa dell'infanzia che coinvolge tutto il territorio al fine di sensibilizzare l'intera collettività sull'importanza di difendere i diritti dei bambini per garantire loro una sana ed equilibrata crescita tre giorni ricchi di appuntamenti ed eventi che quest'anno sono stati organizzati sul tema della lettura come da volontà dell'organizzatore il dottor Luigi D'Albano Noi il convegno si chiama un libro e per sempre o meglio maliziosamente c'è una E un libro e per sempre cioè chi legge è più consapevole e in un certo senso è anche più libro più libro e più libero chiaramente i libri sono qualcosa che cambia il nostro destino non solamente l'istruzione ma anche l'educazione e anche diciamo leggere il nostro profilo e migliorarlo tre giorni intensi verrà il bibio motocarro verranno anche dei giullari dal centro Italia per l'ennesima volta viene Enzo d'Arco che ringraziamo con i suoi ragazzi della cantina delle arti faranno rappresenteranno il piccolo principe che ha dato loro negli anni grandi soddisfazioni che gli ha fatto vincere una serie di premi domenica poi faremo varie attività di laboratorio faremo anche delle attività legate al divertimento e il libro sarà un po' in cima ai nostri pensieri tantissimi libri sono arrivati questa mattina nel centro di Teggiano a bordo del Biblio Motocarro una pecar trasformata in biblioteca l'iniziativa è nata dalla volontà di un maestro in pensione Antonio Lacava che come dallo stesso raccontato notando disaffezione da parte dei bambini ma anche degli adulti verso la cultura e il sapere ha deciso di caricare il suo piccolo veicolo di tantissimi libri e girare l'Italia per portare la biblioteca dei bambini e invogliarli a leggere il Biblio Motocarro più semplicemente BBC sarà presente anche domani mattina presso il centro Frassati fulcro delle attività e degli eventi della tredicesima festa dell'infanzia che proseguirà ininterrottamente fino alle 20 e 30 di domani l'evento organizzato come ogni anno durante la settimana in cui si celebra la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si è aperta ieri sera a Prato Perillo con lo spettacolo teatrale del maestro Giovanni Trotta per accogliere gli ospiti provenienti dall'Argentina paese con cui è stata attivata un'intensa e proficua collaborazione per la tutela dei diritti dei bambini io sono Lucio sono musicista violinista e anche sono il direttore e coordinatore pedagogico dell'orchestra scuola di Lobos Buenos Aires Argentina e collaboro con il progetto Educreando che è un progetto binazionale italiano-argentino che cerca di sviluppare ai bambini e ai ragazzi l'educazione emozionale in questo caso io partecipo con la musicalizzazione dell'emozione e anche sono qua per partecipare nella festa dell'infanzia insieme ai miei compagni la delegazione argentina ieri ho lavorato con i bambini nella scuola media insieme al maestro il professore Antonio Cimino abbiamo fatto tre belle lezioni con i bambini i ragazzi cercando questa questione dei legami tra l'Obos e l'Argentina e Tegiano Italia Ed ora lo sport con il calcio nel prossimo servizio tutte le sfide in programma per le compagini valdianisi e non nei campionati dilettantistici ci vediamo Si apre la due giorni di calcio dilettanti siamo nella fase clou della prima parte di stagione quella che porterà senza soste alle festività natalizie un tour de force che metterà a dura prova le belleità delle compagini del territorio in eccellenza match casalingo per il Buccino Volcei reduce dalla sconfitta di Vico e Quenze della settimana scorsa un brutto stop per i gialloneri 3 a 1 il tabellino finale che getta le prime ombre sulle possibilità playoff dei volceani in questa stagione un motivo in più per cercare immediato riscatto al Polino Via avversario di turno il Castel San Giorgio quarto in classifica e distante quattro lunghezze in promozione si attendono risposte dal Palomonte dopo il buon pareggio del turno scorso contro il San Marzano un ottimo viatico per il match esterno dei Biancorossi contro la Giffonesi una diretta concorrente alla salvezza chi deve riprendere la marcia a pieno ritmo il Sassano Calcio in prima categoria chiamato a riscattarsi dopo il mezzo passo falso interno contro il Real Bellizzi un 2 a 2 che ha fatto perdere il primato della graduatoria Biancazzurri ora testa alla prossima per rimanere sulla scia delle prime trasferta contro il Poseidon ed obiettivo tre punti in terza categoria sfida casalinga per la capolista pollese a punteggio pieno nel torneo in un grandissimo stato di forma i Granata cercheranno di alimentare il filotto di vittorie consecutive tre finora ovvero dall'inizio del campionato contro lo Sporting Club Palomonte Ecco lo Sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti